buongiorno a tutti buon sabato 24 giugno ore 10 e 22 una grandissima notizia quella notizia che aspettavo da tempo finalmente finalmente attendo che state collegati guardiamo intanto il cellulare se arrivano queste queste notifiche se vedo online se vi vedo online vediamo speriamo speriamo di vedervi online presto presto buon sabato mattina a tutti ore 10 e 22 di questo sabato 24 giugno è arrivata questa notizia sui giornali ne stanno parlando i giornali una notizia veramente veramente positiva dico una bellissima notizia perché finalmente ecco vedo i primi marina marzo clara michela luca arsini buongiorno ragazze buongiorno ragazzi finalmente una bella notizia una bellissima notizia buongiorno oggi a pordenone nuvolo e più fresco per ora va bene me è un po di un po di freschino ci vuole antonella sergio buongiorno ciao clara rondinella michele andrea costa finalmente chiude attenzione attenzione la notizia del giorno amici e amiche è semplicemente questa per me questa è la pagina principale della giornata eccola 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 mettiamola un po in primo piano aspettate che diamo una zoom mattina alla notizia una notizia che merita la nostra attenzione mi tiro via un attimo io dallo schermo mi tiro via un attimo dallo schermo dove la mia faccia qui 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 eccoci qua guardate mercato dei bimbi intervengono i giudici quel mercato dei bimbi voluto dalla dash line and company della sinistra il tribunale di milano annulla l'atto di nascita del figlio di due padri concepito con utero in affitto è reato per madri è diverso il mondo gay si spacca ovviamente questa per me è una bellissima notizia perché non potevo accettare questo questo mercato delle dei bambini questo mercato degli uteri quindi vorrei sarei anche curioso di sentire cosa ne pensate di questa prima notizia le persone collegate vediamo in diretta se riesco a farvi andare in diretta ci provo non è così semplice però provo se riesco a farvi andare in diretta con i messaggi vostri e vediamo che dite bene bellissima notizia dice che clara rondinella quindi bene o male tutti la state prendendo bene tutti bene assolutamente tutti ed è giusto che ed è giusto che sia così è giusto che sia così e luca arsini dice mi sembra ottima mario zetti bellissima notizia mi piacerebbe riuscire a far vedere i vostri commenti in diretta ma non devo ancora capire come fare sinceramente devo ancora capire come fare mi anche se mi piacerebbe sinceramente far vedere i vostri commenti in diretta ma non è così facile non è così facile vediamo se ce la facciamo se ce la facciamo tanto buongiorno a tutti quelli appena collegati la notizia del giorno è questa chiude il mercato dei bimbi il tribunale di milano annullo all'atto di nascita per di due padri per conci con un figlio concepito con l'utero in affitto quell'utero in affitto che la cosa a dir poco amici e amiche a dir poco vergognoso vergognoso quindi è bella bella notizia delle del giornale sulla prima pagina del giornale torniamo alle pagine giornale vedo che siete diversi collegati vi do il buongiorno a tutti lydia gubellini dice era ora state bene o male tutti state tutti cercando di commentare in modo molto diretto e onesto perché noi siamo siamo persone oneste ed è giusto ed è giusto esprimere un parere e purtroppo c'è chi darà fastidio questo parere ma che ci possiamo fare non è il nostro parere la tanta gente mai utero in affitto no bimbi e ai nuovi comprati finalmente era ora dice speranza carla luigi scippione buongiorno anche a te e cambiamo invece quotidiano questa notizia principale del giornale il giornale ha dato spazio a questa notizia e andiamo a vedere il libro che dice domani il compleanno i segreti di feltri che fa 80 anni il figlio mattia lo racconta caro babbo adesso ti ho capito abbiamo al centro abbiamo al centro il pagina dedicata chiaramente a feltri al direttore feltri mister mascherine nei guai il deputato pd lo aiutava le telefonate ecco come evitare i pm il bravo avvocato non è chi conosce le leggi attenzione ma chi conosce giudice seguendo il celebre aforisma luciano d'affonso attuale deputato del pd e nella scorsa legislatura potente avete capito giochini di manine e cambiamo quotidiano cambiamo quotidiano vediamo che dicono la stampa aiuti statali alla santa che che è successo e la lega attacca attacca sulle inchieste divisioni nel mess le cartelle di minnea auto di lusso a parlamentari influenti eccoci bravissimi complimenti il pd chiede a meloni di rispondere su 2,7 milioni di fondi covid incassati dagli imprenditori di fratelli d'italia io vorrei dire il che pd invece risponda su quelle sacche di denari e intascate dai parlamentari pd in europa grazie e quindi hanno tutti da rispondere che senza peccato scagli la prima pietra come sempre e qua abbiamo prigioni contro putin ha mentito su chi e non c'erano ragioni per invadere l'ucraina avete capito adesso tirano fuori questa cosa qui va bene va bene io gli credo gli credo a tutti gli crediamo a tutti amici assolutamente andiamo a vedere il tempo aggrappati a landina una spiaggia della sinistra ultima spiaggia della sinistra e ormai è lui il vero leader oggi pd e 5 stelle al corteo della cgl in piazza contro massanità e precariato frutto delle loro politiche sfida anche da amato l'ex assessore amici c'è qualcuno di voi la domanda è questa c'è qualcuno di voi che si fida di landini vi fidate veramente di landini secondo voi sindacati in questo anno hanno fatto il loro lavoro siamo siamo onesti siamo onesti non ne prendiamoci in giro non mi sembra che abbiano fatto un grande lavoro mi piacerebbe riuscire a far vedere i vostri commenti pensate non ci sono riuscito avrei voluto vedere il vostro i vostri commenti la stream chat non me la fa vedere quindi non so come fare a far vedere i vostri contatti forse questo qua no vorrei far vedere i vostri commenti in diretta amici ma non veramente non riesco a vederli avrei voluto vedere i vostri commenti in diretta vediamo se se la facciamo così 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 vediamo aggiungi sorgente proviamo proviamo volete vedere se riesco a far vedere i vostri commenti in diretta amici amici miei e amiche per queste notizie che fanno arrabbiare fanno discutere fanno sorridere in questo caso fanno sorridere e vediamo se riesco se riesco a far vedere la vostra chat in tempo reale vediamo i vostri commenti niente è praticamente impossibile quindi come se l'avessi fatto vedere come se l'avessi fatto vedere torniamo nodi con angeli tononi e a delle rosati tutti noi vogliamo sapere la fine che hanno fatto quelle sacche di soldi del pd attenzione attenzione perché mi ascoltate e rispondete e rispondete dove saranno finite landini nessuno si fida invece alla mia domanda di vi fidate di landini veramente di nessuno dice giovane abecci luca arsini dice no no landini dicono nullità non si dice quello però ma riesposito io non mi fido di nessuno no di landini landini pugno in basso e visto le belle notizie oggi brinderemo col del pignoletto quel pignoletto vietato dall'europa perché vogliono vietare i nostri vini diffidato quei nostri vini diffidati dell'europa con delle etichette che dicono che sono mortali torniamo ai giornali torniamo ai giornali siamo collegati il tempo di osce a temini pista ciclabile a peso d'oro oltre mezzo milione per 750 metri i giornali intanto non vedo più i giornali dove sono finiti i miei giornali rimettiamo i giornali amici ci proviamo non vedo più i giornali mi promisse so che mi se eccoli qua sono tornati a tempo a termini pista ciclabile a peso d'oro 750 metri oltre mezzo milione di euro amici qua ci prendono letteralmente per il non si dice cosa costa più sta pista ciclabile che il ponte sullo stretto dice una battuta di matteo salvini attenzione attenzione cambiamo quotidiano vediamo chi dice andiamo 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 diretti andiamo a trovare la verità ecco la verità la verità anche la verità cavalca cavalca questa bella notizia chiudiamo con questo i bimbi non hanno due mamme e due papà coppie gay finisce il far west creato dai sindaci di sinistra dopo la cassazione e la cedu anche il milano annulla guardate registrazione dei genitori omosessuali resta la via dell'adozione e che però gli attivisti agli attivisti non basta preferiscono gridare falsità sui poveri orfanelli abbiamo a centro pagina non sono mascherine tutte le imprese di minen guardate che se con il suo amico grillo guardate che carini che sono e vi piace deve giocare con le mascherine vero che bello bravi ragazzi a che serve la banca centrale europea a raffreddare la terra avete capito altro che inflazione spread la banca centrale si dà una missione molto più nobile abbassare di 1,5 gradi la temperatura del pianeta l'ha detto il presidente lagarde riuscendo persino a rimanere seria è veramente triste questa cosa veramente comica tragi comica attenzione ultimo le polemiche sulla tragedia del titan per salvare i migranti spendiamo miliardi dire che ce ne freghiamo e pura mala fede articoli di adriano e scianca che di fatto demolisce demolisce ellie jlane detto questo vi saluto e brindiamo la bella notizia utero in affitto in italia è reato ci ha pensato la magistratura i giudici chiude il mercato dei bimbi ciao sinistroini voluto dalla sinistra tra le prime pagine di oggi e assolutamente notizia principale di oggi ciao ci puoi aggiornare un po sulla guerra un po sulla guerra amici e non vi posso aggiornare per un semplice motivo perché quello che ci raccontano in italia tre quarti delle cose sono delle vere cavolate quindi andiamo informarci tramite vie traverse perché tramite via ufficiale quello che vediamo sul mainstream non è quello che realmente sta succedendo quello che è accaduto e quello che accadrà ricordate detto questo vi saluto buona giornata a tutti